E salve gamers, io sono Maricelle e oggi siamo tornati in Assassin's Creed Odyssey Come vedete vi posso presentare Wonder Woman Ragazzi Cassandra è diventata Wonder Woman In realtà non lo so, l'ho pensata così, non so perché Ho detto ma si dai, visto che c'è una donna in Assassin's Creed Facciamola diventare Wonder Woman Cioè ho visto che c'era questa attrezzatura Ho detto assolutamente dobbiamo mettergliela Ditemi cosa mi pensate dei commenti Secondo me è bellissima così Quindi oggi che dobbiamo fare? Dobbiamo andare a parlare con Mirin Vi dico subito che ho giocato tantissimo da sola Ma veramente tantissimo Perché l'ho voluta livellare Infatti siamo a livello 53 Ho affrontato e sconfitto un paio di creature mitologiche Ok, lei ha detto la sua Insomma ho sconfitto un paio di creature mitologiche E adesso andiamo da Mirin Perché dobbiamo riprenderci Sparta In sostanza Mirin è là in fondo Comunque voglio fare almeno una figura mitologica con voi Quindi tenetevi pronti E stavo pensando alla spinge Sarebbe anche la medusa Che è difficilissima Ci ho provato ma ho detto no Prima devo livellarla bene Ed equipaggiarmi bene Adesso siamo bene equipaggiati Vi faccio vedere un attimino cosa abbiamo Nell'inventario Allora è tutto come vedete d'oro Addirittura il tridente di Poseidone Che ci permette di respirare sott'acqua Spada di Nicolao Questa è the best Potenziata al massimo Arco di Achille Che è fantastico Insomma ho cercato di potenziare tutto Mi mancherebbe qua l'elmo E la fascia da guerriero Dell'arena tra l'altro Perfetto Comunque Vediamo un po' cosa vuole Mirin Cosa dobbiamo fare più che altro Per riconquistare Spada Sicuramente dobbiamo indebolire La forza della nazione Ciao Noi sempre la Colpiamo E andiamo addosso Poverina Sì perché abbiamo parlato Se vi ricordate col padre Mi ha detto cosa bisogna fare Non so bene cosa penso di lui Preferisco non parlarne No ci ha detto cosa dobbiamo fare Mi ha detto da dove vengo E dove devo andare Quindi ora conosci la verità Non sono sua figlia Sono solo un'arma Non c'è cosa più lontana dalla verità Tu sei venuta a questo mondo con amore Mai avrei immaginato di calpestare di nuovo il suolo spartano insieme E' bello essere a casa Provo un misto di emozioni Non è una bella sensazione No è bello essere a casa Perché se ho maledetto questo luogo per quello che ci ha fatto Mi sento molto più a casa qui che a Cefalonia Sparta è casa nostra Ma dovremo sbarazzarci del re Pantoccio se vorremmo trovare la pace Che è successo alla nostra vecchia casa? Nicolao continuò a viverci dopo che me ne andai Ma ora che non c'è più Non lo so Perché non lo scopriamo? Certo Ma prima voglio mostrarti una cosa Andiamo Mi fa un po' ridere come corrono Npg ragazzi Npg Andiamo Cavallo Prendiamolo uno a caso Comunque ragazzi Ho fatto veramente tantissime missioni secondarie E devo dire Che le vere e proprie missioni secondarie Sono proprio belle Oppala Arrivati? Direi Quasi Eccoci qua Vediamoci il panorama È qui che ti insegnai a usare la lancia L'esitazione porta soltanto alla tomba Ti ricordi? E come ho fatto ad arrivare fin qui? Dovevamo toglierti la lancia di mano mentre dormivi Dicevi che ti serviva per combattere i mostri nei tuoi sogni Non potevo affrontare Cerbero a mani nude I lupi faranno a pezzi quei bambini Dobbiamo aiutarli Cassandra aspetta Non puoi interferire È una zona di addestramento spartano Sì madre Oddio Che devo fare ragazzi? Non lo so Pontini e pontini Interferire servirebbe solo a indebolire loro e Sparta Non serviranno a Sparta se li lasciamo morire E non serviranno nemmeno se non sono in grado di uccidere dei lupi Vieni Torniamo a casa Ok E quindi niente Ok Uccidi no Seguiamo dai Ascoltiamola Speriamo che Sia un buon consiglio Mi spiace per i bambini Però Quell'addestramento è spietato Non spietato Eficazio I migliori di quei ragazzi diventeranno creepers Protettori della pace e cacciatori notturni Cacciatori notturni C'è una ragione Se Spartano cambia mai Ha delle regole per le Gli spartani dominano la laconia I cui cittadini sono per lo più ilogi Pontadini schiavizzati per lavorare nei campi e nelle mie Schiavizzati? Perché non si ribellano? I campi spartani lo sfamano E i guerrieri spartani garantiscono la loro sicurezza Prima dai persiani e ora dagli atonesi Non dimenticano il loro posto Sono i cryptes a ricordarglielo Capisco Molti si sono sacrificati per ottenere il benessere Molti Non tutti Ok forse vi ho lasciato la conversazione perché Ci sono cose interessanti che si dicono E in più è bellissima Questa zona quindi Ci sta Casa dolce casa Scusa bambino Credo che anche nostra madre non si risparmia Prendiamo Questo è l'unico luogo in cui ho sentito di essere al sicuro Appena sei riuscita a tenere in mano una lancia Hai iniziato ad allenarti qui da mattina a sera Nicolau era un maestro duro da compiacere Con te nascondeva il suo orgoglio Ma ogni sera mi diceva Un giorno porterà gloria a Sparta Era un uomo crudele Nonostante tutto Di sono riconoscente per avermi addestrato Dai cerchiamo di essere più comprensivi L'abbiamo anche lasciato in vita Anche se l'odio per quello che ha fatto Senza il suo addestramento sarei una persona diversa Quel giorno il mio cuore si spezzò Ma per la prima volta da molto tempo Ora che sono qui con te Credo di poter guarire Anch'io Ricordi quando hai preso in braccio tuo fratello? Avevo paura di fargli male Mi misi intorno cuscini e lenzuola E anche allora lo stringevi a te così forte Che credevo l'avresti soffocato Ora è diventato così forte E gli dèi ingannano i miei occhi È bello rivederti Brasida Non dovresti avvicinarti così di soffiato Dai è bello rivederti È bello vederti Brasida N'hai passato di tempo da quando ti ho salvato dal magazzino in fiamme a Corinto I miei ricordi sono un po' diversi Ti trovo bene Brasida Le voci erano vere Sei viva Molti che credevamo morti respirano ancora Quando ho saputo del vostro ritorno Siamo a Sparta ma non ancora a casa Arrivogliamo alla nostra casa, Brasida Sparta ha requisito la vostra tenuta dopo la scomparsa di Nicolao La città attende che il suo figlio adottivo la reclami Ma non è ancora tornato dalla guerra Stentore Avrei dovuto ucciderlo sulla spiaggia Come possiamo riprendercela? Dovete richiedere la cittadinanza spartana ai re Certo, non sarà facile Perché no? Per quanto io sia felice di vedervi, i re non lo saranno Specialmente Archidamo La tua partenza da Sparta non è stata delle più amichevoli Ce l'ha ancora con me perché gli ho rotto il naso Tu cosa? In ogni caso non l'ha dimenticato Ma ho un'idea che forse lo aiuterà a perdonarti Dici Alcuni soldati spartani hanno fornito delle armi agli iloti Chiunque si occuperà dei traditori otterrà la sua gratitudine Perché mai dei soldati spartani aiuterebbero gli iloti? Gli iloti sono molto più numerosi dei cittadini spartani Ma non hanno una guida Sono soprattutto contadini, servi e apprendisti Se qualcuno li riunisse, li armasse e li addestrasse Sarebbero una minaccia per Sparta Ma hai detto che sono stati degli spartani ad armarli A maggior ragione questa faccenda deve essere risolta il più presto Scopri perché gli iloti sono stati armati E avrai l'attenzione dei re Dove trovo questi spartani? L'ultima volta sono stati avvistati alla cava di marmo di Gorani Nella foresta dell'Eurota Allora, troverò i soldati E poi? Gli spartani sono leali al proprio comandante Eliminalo e il resto si disperderà E le armi? Distruggile! Gli iloti hanno già causato abbastanza problemi con falci e badili L'ultima cosa di cui Sparta ha bisogno è che abbiano delle spade Ottimo, me ne occupo io Quindi, per riavere la nostra casa Devo eliminare il comandante spartano responsabile di aver fomentato un'inutile ribellione Sembra semplice Quando avrai finito raggiungimi nella sala del trono Tu dove andrai? È qui che ti ho cresciuto Ed è qui che Leonida ha cresciuto me Farò visita alla sua tomba appena oltre la tenuta Dovresti rendergli omaggio anche tu prima di cominciare Ci proverò Perfetto Allora Vediamo un attimo le cose da fare Parla con Mirin Ok, direi di andare prima da Mirin Per rendere omaggio Perché no, visto che ci teneva Mamma, mamma so che ci tieni Quindi dov'è Mirin? Eccola là Rendiamo omaggio e poi andiamo direttamente a cercare Quello che dobbiamo cercare Andiamo Mirin! Sto arrivando Oppala Comunque in effetti aveva ragione prima Bisognava lasciare Targolini ad arrangiarsi Alla fine della fiera Secondo me è la scelta migliore Leonda L'ultimo vero eroe spartano Saremo tutti sotto il gioco dell'impero persiano Se non fosse per il suo coraggio Nelle tue vene scorre il suo stesso sangue Non ci credo Non è importante Non l'ho mai dimenticato Il nostro sangue è sangue di re Sei molto più di una mercenaria Hai il sangue degli eroi Sangue di potere Ricordi quello che ti ho detto? Che alcuni avrebbero cercato di impossessarsi di questo potere E tu hai giurato? Che non l'avrei permesso Prendi la tua lancia Tutti parlano della Pizia La Pizia Non mi importa quello che dice Basta! Ne abbiamo abbastanza della tua Insolenza Sparta non andrà in guerra La Pizia Ha parlato La Pizia dice Quello che voi volete che dica È il vostro burattino Da fin troppo tempo Ed è giunta l'ora Di tagliare i fili Oh, Leonida I giorni degli eroi sono finiti Credi che il tuo sangue Ti renda speciale? Se aprissimo le tue vene Colerebbe al suolo E sparirebbe tra le fessure del terreno Tu non sei nessuno Perché non proviamo a scoprirlo? Il tuo destino è segnato Figlio del leone Cersei ci unirà tutti quanti E porterà ordine dove c'è caos Sfida la Pizia E chiunque tu ami Chiunque tu voglia proteggere Perirà Raduna gli uomini Mio re Se Cersei vuole Sparta Deve vedersela con me Incredibile Capisci adesso Cosa devo fare? È ora che entrambe Compiamo il nostro destino Se non fermiamo la setta Prima che sia troppo tardi Gli sforzi e il sacrificio di Leonida Saranno stati inutili La nostra stirpe si è ribellata A chi voleva schiavizzarla È ora di ribellarsi di nuovo Bene, bene, bene Madre e figlia infine riunite a Sparta E guardatevi Delle dèe tra i mortali Re Pausania Che onore Sono addolorata per tuo padre Già I nostri padri sarebbero orgogliosi Di vederci qui oggi Ricordi Cassandra Mio re Come dimenticarla? La bambina che si sacrificò Per salvare suo fratello Che tragedia Un'innocente condannata a morte Da un'antica legge spietata Non sono la sola a essere stata condannata Sparta mi giudicò colpevole Non parli come gli altri spartani Antica e spietata Ancora oggi gli spartani vivono e muoiono secondo queste leggi Ma tu sembri più progressista E tu sembri aver passato molto tempo con gli Ateniesi Ho partecipato a un simposio o due In ogni caso Sparta era più debole senza di te Senza di voi Siamo un esempio del perché le leggi debbano cambiare Oh concordo Mare Archidamo Se potesse incidere le leggi spartane sul petto di ogni cittadino Lo farebbe Quelle leggi ci hanno distrutto Io cerco la pace Arriviamo sulla pace? Ho passato tutta la vita a guardarmi le spalle Se Sparta sarà di nuovo la mia casa Voglio che sia in pace Pace a che prezzo Quando gli spartani non uccidono Si addestrano per farlo E se non uccidono gli Ateniesi Dichiarano guerra alla loro stessa gente Ma non siamo qui per parlare dei morti Vero? Abbiamo saputo che Sparta ha requisito la nostra casa Dopo ciò che è accaduto a mio padre in Megaride Noi la rivogliamo Bada come parli Hai lasciato Sparta Ma sono pur sempre il tuo re Chiediamo cortesemente un'udienza con te e con re Archidamo Per chiedere il ripristino della nostra cittadinanza E la proprietà della nostra casa Ma certo Non c'è cosa che mi renderebbe più felice Archidamo tuttavia non ti ha ancora perdonato Per l'incidente del naso Che possiamo fare per persuaderlo? Si parla di una ribellione degli Iloti E i Cryptes gettano paglia sul fuoco uccidendoli selvaggiamente Rubando il bestiame e lasciando i corpi a marcire per strada I Cryptes sono la massima espressione dell'addestramento militare spartano La loro disciplina e il loro coraggio rendono l'esercito spartano il più temuto del mondo Un tempo forse Ora i Cryptes sono corrotti e assetati di sangue E addestrare dei ragazzi per uccidere contadini disarmati non è onorevole Rivolete la vostra casa o no? Bene Dimostrate agli Iloti che non supportiamo più il massacro della loro gente E dove dovrei cominciare a cercare questi Cryptes? Puoi trovarne uno nel forte di punta Zarax Un altro è a guardia della casa di un capo spartano Il terzo è più elusivo L'ultima volta è stato avvistato in uno dei villaggi a ovest delle colline Ilote È decisamente il più rumoroso dei tre Mia madre mi ha parlato dei Cryptes Cos'altro puoi dirmi? Sono gli occulti Selezionati fin dalla giovane età Privati del cibo e addestrati in isolamento Costretti a rubare e uccidere per sopravvivere Se completano l'addestramento diventano guardie del re Ma perché devo ucciderli? Per anni i Cryptes hanno mantenuto la pace tra gli Iloti e gli Spartani Sì, occupavano degli Iloti che causavano problemi Ma ultimamente i Cryptes hanno ucciso uomini Donne e bambini senza pietà Bambini strappati alle madri e dati in pasto ai lupi La Crypteia è divenuta terreno fertile per la nascita di spietati selvaggi C'è qualcosa che devo sapere sul re Archidamo? È un conservatore, brutale, noioso Dà più importanza alla tradizione che al benessere del popolo Quel giorno sul monte Taigeto si schierò con gli anziani Ottimo, allora lo farò per te È abbastanza complicata la cosa Secondo me c'è qualcosa che non torna Non sono sicura, però Abbiamo due missioni sostanzialmente Quindi Non so se devo farle tutte e due O scegliere tra una delle due Ma io partirei da questo Forte con i porti Archidamo crede nella tradizione Uccidere i suoi Cryptes Non causerà tensione tra lui e Pausania A volte mi manca Cefalonia La vita era semplice Anche se Marco era un imbecille Ok Andiamo Sì, infatti c'è qualcosa che non torna Però boh, io farei questa missione Secondo me è più interessante Uccidiamo i Cryptes Secondo me rischiamo di fare in realtà Uno sbaglio o qualcosa del genere Ma probabilmente è una cosa che comunque dobbiamo fare Quindi Ci siamo, ci siamo Devo fare attenzione immagino qui Ah, cerchiamo di essere stelle Cerchiamo Mi stanno già cercando senza neanche Non ho neanche iniziato Aiuto Qualcuno l'ha visto Oh mamma mia Vieni qui Vieni qui Forza Vieni Oppalala Che accoglienza Ragazzi Che accoglienza Aspettate Scendiamo qui Io direi di usare anche Icaro Così capiamo bene la posizione di tutti Allora Sì, in effetti lì c'è qualcuno Mi vedono sicuro E zacchete Muori male Oppalala Questo Oppalala Oh mannaggia C'era l'amico e adesso Mi tocca Ucciderlo così Oppalala Avremo in mercenaria le calcagna Ma Non fa niente Sì, a posto Direi che ci dobbiamo spostare E userò il viaggio rapido E scusate ma Ho compiuto la Prima missione Perfetto Ok Siamo abbastanza vicini Devo dire Mi mancano giusto un paio E Ci siamo Ci siamo Prendi questo Prendiamo cose per strada Eccoci Uno è stato ucciso E adesso Tocca quell'altro Proviamo così ragazzi Sì Funge Funge Stracchete Credo che non mi abbiano nemmeno visto Arrivederci Proprio E E Adesso Io vorrei Quasi quasi Visto che siamo Qui vicini Sbloccare Questo viaggio rapido Perfetto Perfetto E adesso Andiamo Dall'altro Ok Ci siamo Siamo vicinissimi E Probabilmente Dovremmo essere Stelte Per questo È una bella Fortezza Quindi Ci arrampichiamo In modo Steltuso Eh sì È un forte Quindi Andiamo Molto Molto Con calma E Cerchiamo Di non farci Scoprire E potete Già iniziare A ridere Per quanto Quando cerco Di non farmi Scoprire Io Oppala Sarebbero anche Un bel po' di cose Per completare Il luogo Vuole Marco Eccetera Eccetera Allora Io direi Di chiamare Icaro E di vedere Quanti nemici Da 1 a 10 Bravo Bravissimo E adesso Ti uccidiamo Che ne dici Oppalalla Eccoci qua Ottimo Allora Voglio Dov'è il segnale Adesso Eccolo là Distruggere Il segnale E non è facile Di qui Pian pianino C'è anche L'amico Dentro Però è girato Ups No Pensavo Morisse subito E invece Non è vero Niente Andiamo su Però Facciamo in tempo Trappola Oppalalla Così non possono Mandare segnali Spastici In giro Allora Di qua Tu muori Scusa Anche perché Mi fai guadagnare Punti Quindi Uh ci han visto Ecco Vedete lo stealth Parate da me Con lo stealth Sono così brava Sono così brava Con lo stealth Ok Eccoci qua Zranche Te E Zranche Te Missile Compiuta Perfetto Direi di Tornare Indietro Penso che Dobbiamo Tornare E vediamo Se abbiamo Fatto Una Cavolata Ad ascoltare Il tizio Penso di sì Penso di sì Direi di buttarci Al mare Ci siamo Allora Oppalalla Che altezze Che altezze Ok Eccoci Andiamo ad incontrare Brasida E a dirgli Che abbiamo fatto I bravi Abbiamo ucciso Gente Oppalà Andiamo 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 Oppalà Brasida Ce l'abbiamo fatta Spero che Batti Eccoti Quando ci sei Posso condurti Dai re Ci sono Cosa devo aspettarmi Prima di incontrarli Ah sì Giusto Non hai mai avuto Un'udienza Con i due re Ho incontrato Pausania Re Pausania Ti prego I re Pausania E Archidamo Regnano insieme Anche un carattere Difficile Meglio Andargli a genio Ok Ci sono Allora andiamo Tua madre è già dentro Dove sono i re? Eccoli Cos'hai da dire Ora Hai reso l'idea Archidamo Hai vinto Altri due squadroni In beozze Allora Come dicevo È così che risolvono le questioni A volte La guardia di Archidamo È migliorata Dovrebbe ringraziarmi Brasida Vieni con delle notizie Sentiamoli Miei re Vi presento Mirine Discendente di Leonida E sua figlia Cassandra Come osi Mostrare il tuo volto A Sparta Cassandra mi ha aiutato A rendere la Corinzia Sicura Mio re E ha dato il suo Contributo Con la ribellione Ilota Vogliono solo il meglio Per Sparta Vi prego Di ascoltarle Ascoltiamo Prima di versare Del sangue Sul pavimento Del palazzo Parla Mirine Perché sei qui? Sono tornata Per rivendicare La mia cittadinanza Spartana E la nostra casa Ti sei esiliata Volontariamente Tua figlia Ha ucciso un anziano Ed è fuggita Per non parlare Di ciò che ha fatto Al tuo naso La mia famiglia È stata tradita Mio re Sparta È stata tradita Siamo qui Per denunciare I traditori Per anni Non ti è importato Nulla Di Sparta Come osi È colpa mia In colpa me Io ho ucciso L'anziano Io ho dato inizio A tutto questo Quindi se vuoi Che qualcuno Dimostri la propria Lealtà Dovrei essere io Non so se Congratularmi con te Per la tua onestà O punirti Per il crimine Che hai appena Confessato Mirine Ha reso note Le sue intenzioni Quali sono Le tue Trovare e uccidere Chi ci è tradito Rendere Sparta La mia casa O Beh Io opterei Per la seconda Ho intenzione Di tornare a casa Qui Dove sono nata Quello che è successo Sul Taijeto Ha gettato un'onta Su Sparta Qui non c'è posto Per te E per la tua famiglia Prima Dimostra La tua lealtà Porta gloria A Sparta E riscattati Agli occhi Degli dèi Fino ad allora Né tu Né tua madre Avrete diritto Alle vostre terre Ditemi cosa devo fare E sarà fatto L'esercito spartano Combatte gli ateniesi In Beozia Vai e uniscite I nostri comandanti Torna trionfante O non tornare affatto È un suicidio Nessun problema Detto con la sicurezza Di qualcuno Che non ha mai visto La guerra Troverai il mio comandante Sul monte L'icona Consegnali questo E digli che ti mando io Non così in fretta Due re Due missioni È ottimo Dimmi Due non saranno Un problema È la prima cosa Da spartana Che ti sento dire Presto nell'elide Inizieranno le olimpiadi E il nostro campione Di lotta Ha bisogno Di una scorta E vuoi che sia io A fare da scorta A lui Voglio che ti assicuri Che gli spartani Tornino con una corona È così che porterà Gloria a Sparta Vincendo un evento Alle olimpiadi Non un evento Miore Farai in modo Che Sparta Vinca le intere Olimpiadi Perfetto Hai i tuoi ordini Ti riceveremo di nuovo Quando li avrai eseguiti Se Li eseguirai Compirò le missioni E voi ci ridarete La nostra casa A quanto pare C'è ancora un po' Di Sparta In te Brasida Accompagnale fuori Le intere Olimpiadi Ottimo Sembra facile Sembra molto facile Devo dire che Niente meno Che una guerra E le olimpiadi Bene Direi che è andata bene Considerando che la tua testa È ancora al suo posto Sì Direi che è andata Molto bene I re sono stati generosi A darci un'altra possibilità Ora devo solo vincere Le olimpiadi E una guerra C'è qualcos'altro Che vuoi sapere Prima di partire? Sì Come fare a vincere tutto Comunque Cosa succede in Beozia? L'esercito ateniese Stare spingendo Poco a poco Gli spartani Non sarà facile Vincere Se c'è uno Che può ribaltare La situazione Sei tu Cosa sai Di questo campione Di lotta Che dovrai scortare Alle olimpiadi Il lottatore Di Pancrazio Il suo maestro Saprà dirti dov'è Grazie Le cose non sono come sembrano Ma devi garantire La sicurezza del campione Per compiere la missione Lo farò Uno dei re fa parte Della setta Quindi uno di questi Incarichi È di certo Una trappola Ma quale Brasida Non ne parlerei Così vicino al palazzo Ma ho combattuto Al fianco di entrambi Non riesco a credere Che uno dei due Sia un traditore Dobbiamo avere le prove Prima di muovere Qualsiasi accusa Tieni gli occhi aperti C'ho abbastanza E tu cosa farai Durante la mia assenza Ho ricevuto un messaggio Appena prima di entrare Che tipo di messaggio Un indizio su dove trovare Un altro membro Della setta Andrò in Arcadia Da sola Il fato ci arride Ho ricevuto ordine Di andare lì Possiamo viaggiare insieme Mi sarebbe utile Ti ringrazio Allora ci vedremo in Arcadia Buon viaggio Ottimo Ottimo Tutte cose facili Dobbiamo fare Nuovo capo scoperto Ottimo Allora Facciamo ancora Qualcosina assieme Che ne dite Tanto sono cose facilissime Parla con l'allenatore Testicle Questo per l'Olimpiadi Magari partiamo da qui Missione livello 49 Potremmo anche fare La conquista